Nell'amore del Signore, vi saluto veramente con tanta gioia che questa mattina noi possiamo pregare, possiamo cantare. Ringraziamo il Signore per questo tempo, magari se sei qui per la prima volta, che la grazia e la pace del Signore possa abbracciare te e tutti potenti sentire a tuo agio per lodare il Signore. Vogliamo pregare prima di incominciare, prima di fare qualsiasi cosa che la potenza di Dio ci possa guidare. Signore, questa mattina noi siamo qui per onorarti, per ringraziarti Signore per un'altra settimana di vita e allo stesso tempo lodarti Signore perché questo è il desiderio del nostro cuore. E in questa azione Comune, questa azione anche presenziale, noi sentiamo ancora di più la tua potenza, ascoltiamo la tua parola, siamo incoraggiati, possiamo vedere come tu stai prendendo cura delle nostre famiglie. Grazie Signore per questo tempo, noi lo dedichiamo a te e ti prego che nel nome di Gesù Cristo ogni singola persona possa ascoltare la voce del Signore, che tu possa parlare e noi possiamo percepire, Signore, ogni messaggio tuo, che possiamo allo stesso tempo aprire il nostro cuore e lodare il nome del Signore perché questa è la tua volontà. Signore, grazie per tutte le famiglie qui rappresentate, per i nostri cari che non sono presenti, Signore, per motivi, Signore, anche perché hanno bambini e i bambini ancora non possono venire. Signore, che la tua grazia, Signore, continua a essere con loro, a proteggere tutti quanti, Signore, dai più piccoli ai più grandi. E, Signore, nel frattempo che possiamo continuare, Signore, anche in tante piattaforme, non solo quella presenziale, ma anche quella virtuale, continuare a predicare la tua parola. Grazie per la forza che hai dato in noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, cari, voglio vedere le mani alzate di tutti coloro che vogliono lodare il Signore. Allora, approfitta, alzati anche in piedi. Vogliamo cantare e lodare nostro Signore, 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 è buono. Amen. Io tu sei buono e la tua fedeltà è per sempre. Io tu sei buono e la tua fedeltà è per sempre. Io tu sei buono e la tua fedeltà è per sempre. Allora, cari, voglio vedere le mani alzate di tutti coloro che vogliono e la tua fedeltà è per sempre. Io tu sei buono e la tua fedeltà è per sempre. Io tu sei buono e la tua fedeltà è per sempre. E la tua fedeltà è per sempre. Amen. Glória al Signore. Amen. Cari, possiamo accomodarci per qualche istante? E se volete aprire la Bibbia nel Salmo 111, leggeremo alcuni versetti dalla parola di Dio. Salmo 111, che è un Salmo di lode al nostro Signore. Salmo 111, un Salmo della parola di Dio che parla delle opere grandi che il Signore fa e ha sempre fatto perché Lui è Dio. Salmo 111, voglio nel frattempo salutare tutti i nostri che ci seguono da casa, che la grazia e la potenza di Dio stiano anche nel vostro cuore e la parola di Dio possa arrivare nella tua anima. Salmo 111, la parola di Dio dice Alleluia! Io celebrerò il Signore con tutto il cuore, nei convegni dei giusti, nell'assemblea. Grandi sono le opere del Signore contemplate da chi le ama. Le sue opere sono splendide e magnifiche e la sua giustizia dura in eterno. Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi? Il Signore è pietoso e misericordioso. Egli dà cibo a quanti lo temono e si ricorda in eterno del suo patto. Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere. Gli ha dato l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi precetti sono fermi e stabili in eterno. Fatti con verità e rettitudine. Egli ha mandato a liberare il suo popolo. Ha stabilito il suo patto per sempre. Santo e tremendo è il suo nome. Il timor del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanto lo praticano. La sua lode dura in eterno. Amen! Meraviglioso questo Salmo. E spero che questo Salmo ora, nel nome di Gesù, ci possa spingere a pregare al Signore. Perché questo è quello che noi vogliamo fare adesso. Ossia la celebrazione. Non è magari che c'è un conduttore che fa, no? E gli altri solo ascoltano. Qua noi abbiamo la possibilità, grazie al Signore, di interagire, di poter pregare. E quindi nel nome di Gesù, che tanti di noi adesso, pensando alla bontà di Dio, all'opera di Dio, alla cura di Dio, alla liberazione, alla sua misericordia, alla sua bontà, al fatto che il Signore è un Dio fedele, perché si ricorda il suo patto in eterno. Non cambia idea. È sempre il Signore. E allora noi vogliamo, come dice la parola, il timore del Signore, il principio della sapienza. Anche la preghiera è dimostrazione di timore. Perché noi ci rivolgiamo a Lui. E quando noi alziamo le mani, stiamo dicendo, Signore, io mi arrendo a Te. Io confido in Te. E quindi ho timore, ho riverenza, io ho amore per Te. Vogliamo pregare tanti di noi nel nome di Gesù. Prega il Signore. Prega a voce alta nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen. amè 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 gloria al Signore grazie il Signore il Signore si non ci hai guardato non è per capare Signore per quello Signore c'è la tua vita vita di essere rinnovato di essere rinnovato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie te lo voglio un dono grande un dono grande Signore voglio dire la certezza un giorno tipo primo grazie per questo Signore io ti voglio che si abbia un cuore per la tua fede per le mie risposte Signore tu dai quando Signore ci sembra il verso abbiamo ascoltato nonostante quanto le risposte si fanno a tempo oh Signore grazie che noi possiamo avere la certezza che tu non dimenti amén ma la certezza che tu prima o poi rispondi quando la tua io ti voglio ringraziare per questo chiede che tu direi chiede pure di benedire la tua valore per penetrare nel nome di Gesù Signore amén alleluia che è infallibile grazie grazie a casa come dice come dice la tua parola anche quando vengono gli vinti le piogge le tempeste la nostra casa non cade perché tu Signore sei la nostra nostra per questo in questa mattina ti vogliamo lodare cantiamo e ti ringraziamo per tutte le opere grandi che tu hai fatto per noi e che farai nel nome di Gesù ti ringrazio amén Padre questa mattina insieme alla tua chiesa vogliamo ringraziarti Signore perché tu ci dai l'occasione di incontrarci come famiglia di Dio ti vogliamo ringraziare Signore per la tua parola ti vogliamo ringraziare come tu nella comunione ci edifichi e ti voglio pregare Signore che tu possa accogliere questo tempo di adorazione che ogni cuore qui Signore sia pronto a pregare a esaltare a glorificare a magnificare a portare su in alto la bontà che il Signore stesso ha riversato nella nostra vita Signore noi siamo riconoscenti e mai vogliamo dimenticare tutti i benefici che tu hai dato per noi e quest'oggi Signore ti voglio anche ringraziare in maniera particolare per la tua parola che è una bussola per la nostra vita Signore io prego che nel nome di Gesù Cristo questa parola possa parlare al nostro cuore e tutto sia fatto perché tu vuoi che sia fatto Signore per il tuo merito per la tua bontà e per il tuo onore Signore grazie per tutte le nostre famiglie e ancora continuo ma con incessante preghiera che tu possa continuare a guidare i nostri passi che questa chiesa sia un strumento per la tua gloria grazie per quello che stai facendo grazie perché in mezzo alle difficoltà tu ci stai sostenendo che possiamo Signore rimanere sempre perseveranti nella gioia e nella grazia del nostro Signore Cristo Gesù che è sempre benedetto in eterno amén amén cari allora noi vogliamo dedicare ora il tempo per la parola di Dio diamo un benvenuto ai nostri cari che sono appena arrivati è bello poter avere la sala praticamente piena ma una cosa che non ci manca scusate è certamente la bontà del Signore nella nostra vita e la parola del nostro Signore allora se dal Signore tu vuoi essere onorato prega con fede perché rispetto agli altri tu sarai maggiorato amén sembra quasi un messaggio ma che cos'è teologia della prosperità no attenzione noi oggi vogliamo parlare di questa vera prosperità che noi possiamo attingere dal trono di Dio apri come nella parola di Dio libro di cronache capitolo 4 abbiamo l'esempio di un uomo che ha pregato al Signore e il Signore lo ho portato in alto primo cronache capitolo 4 soltanto due versetti versetto 9 e versetto 10 primo cronache capitolo 4 da 9 a 10 anche per te che sei a casa apri la parola di Dio primo cronache capitolo 4 9 a 10 perché se dal Signore vuoi essere onorato prega con fede perché rispetto agli altri sarai maggiorato sarai benedetto ossia crescerai primo cronache 4 da 9 a 10 avete trovato cari dice ma cos'è dov'è che c'è cronache nella Bibbia vai nell'Antico Testamento no trova primo cronache ed è interessante che questo mentre aprite i primi 8 capitoli sono capitoli che parlano di genealogia se vuoi avere un succo il riassunto della storia del popolo di Dio incomincia a leggere questi capitoli e tu vedrai che parla capitolo 4 e ancora di più versetto 9 10 perché qua c'è un qualcosa di particolare e allora se avete trovato cari dice così la parola di dio cronache primo cronache 4 9 a 10 incomincia con un nome Iabes Iabes fu più onorato dei suoi fratelli sua madre lo aveva chiamato Iabes perché diceva l'ho partorito con dolore versetto 10 fai molta attenzione a questo versetto 10 Iabes invocò il dio di israeli dicendo benedicimi ti prego allarga i miei confini sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire e dio che cosa ha fatto e dio gli concesse quanto aveva chiesto signore ci troviamo davanti a un brano della tua parola e non c'è parola più potente che la tua bocca che parla signore che ha parlato per mezzo dei profeti degli apostoli e noi ti ringraziamo per la vita di Iabes perché signore tu sicuramente vuoi usare il suo esempio per stimolare noi a cercare te benedici signore anche la mia vita abitu misericordia affinché ogni cosa sia fatto per la tua gloria parla al nostro cuore nel nome di Gesù allora noi incominciamo con questo nome perché versetto di numero nove incomincia con Iabes che in italiano è Iabes Iabetz sarebbe in ebraico finisce diciamo traslitterando con la z Iabetz quindi questo nome una persona che noi immagina che c'è la genealogia di tutte le famiglie di tutto il popolo di Dio e qua cambia è come se ci fosse una sosta un intervallo Iabetz fu onorato più dei suoi fratelli però prima di parlare del rapporto di Iabetz con i suoi fratelli è interessante ossia capire alcune cose inerenti alla persona di Iabetz lo stesso sia in prima persona allora lui è discendente di Giuda ok quindi lui viveva nella parte meridionale quando noi pensiamo a Canaan e quindi brevemente c'è questa interruzione come ho detto questa narrazione particolare di chi è questo uomo e se si è fermato lì è perché lui era degno di essere ricordato perché tu non ti fermi a parlare di qualcuno quando questa persona non ha qualcosa da passare a te non ha qualcosa che ti stimola a essere ricordato ossia la sua memoria ma questo era un uomo che lo meritava noi vogliamo capire che in questi due versetti contengono non soltanto informazioni inerenti a questo Iabetz ma vuol dire anche qualcosa per la nostra vita qualcosa del suo passato noi abbiamo alcuni dettagli soprattutto della sua preghiera è quello che noi abbiamo di più questa mattina questo è molto interessante più che della sua persona noi abbiamo informazioni rispetto alla sua preghiera allora questo nome Iabetz allora sembra un gioco di parole perché il nome Iabetz dall'ebraico è molto simile è correlato alla parola dolore in ebraico immagina che magari ci sono paesi nel mondo c'è per esempio il paese dove si parla lo spagnolo c'è qualcuno che si chiama dolores no? quindi immagina che il tuo nome come ti chiami? dolore io mi chiamo dolore quindi questo Iabetz mamma mia ma che nome che hai allora questo uomo chiamato dolore perché è molto collegato alla parola ebraica che ha a che fare con dolore dice il versetto di numero 9 che dolore Iabetz fu più onorato dei suoi fratelli e sua madre lo aveva chiamato Iabetz perché guarda qua come qua c'è la correlazione perché lo aveva partorito con dolore ossia c'è stato un momento di sofferenza questo uomo era nato nella sofferenza noi non sappiamo che cosa era successo che cosa era successo con lui che cosa era successo con sua mamma che ci sono dolori quando una donna partorisce questo è comune a tutti ma se qua viene detto è perché probabilmente sarebbe successo qualcosa e questo Iabetz questo uomo questa persona che dopo c'è anche una città vicino a Betleme sarebbe magari una frazione noi non sappiamo esattamente la località la localizzazione ma la località che si chiamava Iabetz quindi Iabetz aveva lasciato un segno perché qua c'è un'interruzione della genealogia perché anche nella parola di Dio in prima cronaca capitolo 2 versetto 55 parla di questo piccolo paese che si chiama Iabetz vicino a Betleme che a sua volta è vicino a Gerusalemme quindi la tribù di Giuda tribù che dopo a sua volta veniva Davide e ancora più importante il figlio di Davide che è il Messia il nostro Signore Cristo Gesù quindi abbiamo già scoperto qualcosa almeno il suo nome e la sua famiglia come era la sua famiglia allora dice la parola di Dio che Iabetz versetto di numero 9 abbiamo letto che lui era più onorato dei suoi fratelli ossia come se lui ossia c'era lui e i suoi fratelli ma lui aveva una posizione di più alta ossia di distacco rispetto ai suoi fratelli e la parola qua in ebraico è kaved questo kaved vuol dire ossia che lui era qualcosa di diverso perché perché lui era rispettato nella sua famiglia non che lui magari o perché aveva più denaro o qualcosa di questo genere ma il senso qui di questa parola onorato è che lui era rispettato era meglio conosciuto rispetto ai suoi altri fratelli allora io domando a te questa mattina già per fare una riflessione alla nostra vita guardando l'esempio di Abetz che cosa fa salire alcune persone verso l'alto perché quando abbiamo un uomo che ha una posizione di distacco lui è nato nel dolore suo nome è dolore come mai c'è questo questo paradigma perché se lui è dolore doveva continuare nel dolore a volte si dice in Italia che quello che nasce storto deve pure morire storto ossia se è incominciato sbagliato deve pure finire sbagliato non si può cambiare ma qua noi abbiamo una persona che nonostante il suo nome e la condizione in cui è nato lui aveva una posizione di distacco perché Abetz è stato più onorato dei suoi fratelli che cosa ha spinto questo uomo a distinguersi degli altri che lo circondavano tu ti sei mai chiesto questo e perché per la tua vita magari noi oggi viviamo in una situazione pensando a questo post o ancora fase 3 pandemia non so come chiamare se siamo post pandemia o se siamo ancora nella pandemia e che cosa viene dopo se questo è il normale se sarà il nuovo normale io non lo so però io so una cosa che il Signore è un proposito per la nostra vita e noi più che mai dobbiamo assomigliarci agli Abetz perché noi non vogliamo vivere nella mediocrità ma vogliamo cercare l'esempio di Abetz nella nostra vita e capire quali erano i principi che lui ha avuto perché dal dolore dal deserto lui è arrivato all'oase e questo è molto importante per la vita nostra come credente vogliamo capire che cosa ha causato che cosa c'era in Abetz che magari io posso avere lui era più intelligente lui era più ricco lui era più capace degli altri o magari Dio ha i suoi preferiti come funziona sai io vi sto mettendo delle domande per stimolarti a pensare però una cosa già ti posso dire Dio non fa favoritismo Dio non fa favoritismo ma Dio guarda una persona che ha intimità con lui questa è la chiave per la tua prosperità spirituale se tu vuoi essere di distacco se tu vuoi essere maggiorato allora prega con fede al Signore deve avere un rapporto personale con il Signore chi lo cerca solo la domenica o chi lo cerca magari quando è nel bisogno tu stai tranquillo non sarà come un Abetz rimarrà ancora nel dolore non avrà la potenza di Dio non ascolterà la voce del Signore allora gli Abetz ha imparato il segreto per non rimanere nella mediocrità ma per poter salire per poter crescere gli Abetz in qualche modo aveva scoperto questa formula di grandezza per la nostra vita che ancora oggi è un uomo è l'unica parte che si parla di questo uomo nella Bibbia o c'è Primo Cronache capitolo 4 o Primo Cronache capitolo 2 che parla del paese e niente più eppure in 8 capitoli si ferma per parlare di questo uomo allora il Signore mio caro fratello e sorella gli Abetz è più degno della folla che è attorno a lui perché lui vede che c'è la potenza di Dio che vuole operare nella sua vita e lui dice Signore io voglio di più io voglio che tu possa lavorare nella mia vita c'è per esempio sempre nell'Antico Testamento in Prima Samuele capitolo 2 versetto 30 leggo io per voi voi vi ricorderete che Samuel era stato portato da Eli Eli era il sacerdote però le cose non andavano bene in Israele c'era promiscuità all'interno del tempo i suoi figli non ascoltavano la voce il padre non ci faceva niente quindi non c'era intimità con il Signore in quel luogo che era chiamato Tabernacolo la casa del Signore in mezzo al popolo di Dio e allora il Signore dice ma ora il Signore dice lungi da me tale cosa perché io onoro quelle che mi onorano e quelle che mi disprezzano saranno disprezzate se tu vuoi essere onorato cerca il Signore onore il Signore se tu vuoi essere disprezzato gira le spalle verso Dio e tu sarai dimenticato dal Signore Iabetz non si è dimenticato di Dio Iabetz ha onorato il Signore Iabetz ha pregato al Signore e abbiamo visto il suo nome abbiamo visto che lui è più onorato dei suoi fratelli e ora dice che la sua mamma lo ha partorito con dolore e quindi come ho detto prima voglio ribadire lui già era nato in una situazione difficile non so se lui aveva un problema di salute magari perché era nato nel dolore sono speculazioni magari della mia mente io queste risposte non ce le ho non posso dire quello che la parola non lo dice però una cosa è certa lui era nato nel dolore e sua mamma lo aveva partorito nel dolore noi non abbiamo altri dettagli ma sappiamo questo che anche se tu oggi sei in una condizione difficile non è detto che tu devi rimanere così perché il Signore ha un proposto cari anche se avete le mascherine potete dire Amen nel nome di Gesù perché se tu non hai fede se tu non sei d'accordo allora che cosa stai facendo qua noi siamo qui per onorare il Signore per cercare il Signore e io voglio sempre di più con intensità cercare il Signore e se tu appunto nell'interagire nell'ascoltare la parola ossia lascia il Signore dare a te questo esempio per la tua vita perché se io non prego io non posso ricevere io devo dipendere dal Signore devo cercare il Signore c'è gente che è così razionale che addirittura vogliono razionalizzare la parola se Dio sa ogni cosa perché devo pregare perché Dio vuole avere un rapporto con te Dio sa le cose di cui noi abbiamo bisogno allora umanamente non avrei bisogno di pregare ma non è così il Signore vuole vedere la mia dipendenza la mia resa il Signore vuole vedere che io lo onoro che io lo cerco e che do nome alle mie richieste non che faccio tutto all'ingrosso vado al dettaglio cosa per cosa presentando davanti a Dio perché Iabetz così ha fatto al Signore lui non ha detto Signore benedici solo la mia vita adesso noi vogliamo vedere che Iabetz invocò il Signore guarda versetto 10 questa era solo l'introduzione adesso noi andiamo nel dunque nel succo del messaggio Iabetz invocò il Dio di Israele mi raccomando ricordatevi che noi stiamo parlando di genealogia di tutto il popolo ma qua cambia completamente il discorso perché questo è fondamentale per le generazioni future se tu vuoi che le tue generazioni siano benedette dall'Eterno incomincia a invocare il Dio di Israele incomincia già oggi a pregare per il tuo figlio per la tua figlia per la tua moglie per il tuo marito per i suoceri per la suocera per i fratelli in chiesa se vogliamo progredire se vogliamo prosperare nel cammino con il Signore dobbiamo fare come ha fatto Iabetz infatti Iabetz lui ha detto guarda se io ci sono in questo male lui che cosa fa lui fa almeno queste richieste al Signore e quali sono queste quattro richieste che lui fa al Signore prima di dire quali sono le quattro richieste è importante notare che lui chiama il Signore lo stesso verbo che io quando ho predicato Geremia 33 versetto 3 invocami e io ti risponderò ti risponderò e ti darò cose grandi impenetrabili che il tuo cuore non conosce la parola che Dio ha usato con Geremia è la stessa parola che noi troviamo qua la parola in ebraico kara che sta invocando lui questo uomo Iabetz dice Signore io ti invoco io faccio ricorso io presento Signore la mia richiesta la mia richiesta di aiuto davanti al tuo trono e lui a chi prega lui invocò chi guardate bene la frase caro fratello e sorella lui invocò Dio lui non invocò un uomo lui non invocò un re lui non invocò un primo ministro lui non invocò un medico che magari lui aveva qualche problema lui invocò il Signore e tu nella tua vita devi capire questo tu devi invocare c'è gente che invocano tanti dei tutti dei sono lo stesso Dio no questa è la più grande menzogna del diavolo qua dice la parola di Dio che lui invocò il Dio di Israele il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe il Dio io dico anche ai musulmani se ci sono musulmani che ci guardano da casa il Dio di Abramo Isacco e di Giacobbe non è il Dio dei musulmani non è la stessa persona non può essere la stessa persona e qua i habits è molto preciso Dio non scende in compromesso e non vuole molto meno che il suo popolo quando prega a lui se io voglio prosperare se io voglio essere maggiorato c'è solo una persona a cui ti puoi rivolgere è il Signore Dio Eterno perché se non ti rivolgi a lui le cose non cambieranno c'è gente che si rivolge a Satana che fanno patto di sangue voi sapete molto bene di cosa sto parlando perché ci sono molte persone che vogliono vendere la propria anima il proprio spirito al demonio e il demonio distrugge il loro spirito la loro carne la loro vita la loro pace magari gli dà all'inizio quello che vogliono però distrugge completamente condannano la vita l'esistenza di queste persone se tu vuoi crescere se vuoi prosperare invoca il Dio di Israele il Signore l'onipotente meno male state invocando il nome del Signore amè cari bisogna invocare perché non c'è un'altra possibilità io non voglio spaventare nessuno non sono nessun tipo di mago ma quando io lego la parola i tempi saranno ancora più difficili se questa mascherina già ti dà fastidio tu vedrai ancora quello che deve succedere nel mondo incomincia a invocare il nome del Signore ci sono molti interessi molte cose che stanno accadendo nel mondo e magari parlando così dici Fabiano ma tu hai perso il cervello non ho perso il cervello io ho timore del Signore so che non sono niente e mi devo ossia sottomettere il Signore devo invocare il suo nome devo dipendere dal Signore allora se tu vuoi prosperare se vuoi che la tua famiglia sia benedetta invoca il nome del Signore del Dio di Israele l'unico Signore non c'è un altro Signore esistono molti entità ma nessuno è come il nostro Signore perché la sua natura è divina e la sua potenza è eterna come dice anche l'Apostolo Paolo quindi non c'è nessuno che sia paragonato al nostro Signore non c'è nessun angelo nessuna creatura nessun né giù né su questa terra né uomo né governante possono fare quello che vogliono Dio li spezzerà come dice nel Salmo di numero 2 perché Lui è il Signore ma vediamo brevemente le 4 richieste che fa Yabetz al Signore allora lui fa queste 4 richieste ti voglio citare velocemente numero 1 lui dice Signore benedicimi numero 2 lui dice Signore allarga i miei confini numero 3 lui dice sia la tua mano con me e 4 preservami dal male in modo che io non devo soffrire stato specifico questa deve essere la nostra preghiera chi è che non vuole queste cose che ha chiesto Yabetz io voglio con le due mani io voglio queste cose per la mia per la tua vita allora per superare questo stigma della suo nome che è sofferenza che è il dolore mister dolore Yabetz allora lui dice Signore io voglio pregare a te perché c'è potenza quando una persona prega al Signore al Dio di Israele e il cielo si apre davanti si apre sopra la vita di questa persona e noi stiamo sperimentando la potenza della preghiera e se c'è un tempo in cui noi dobbiamo pregare è esattamente in questo tempo cari perché viviamo un tempo nuovo non è un tempo migliore sicuramente ma è un tempo nuovo un tempo con tanti punti interrogativi con tante incertezze e noi dobbiamo pregare al Signore allora Yabetz lui dice Signore io audacia voglio pregare con te con fede e lui dice la prima richiesta che fa al Signore leggiamo tutti il versetto 10 dopo andiamo parte per parte lui invocò il Dio di Israele cosa che abbiamo già trattato dicendo benedicimi ti prego allargami i miei confini sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire e Dio gli concesse quanto aveva chiesto allora la prima richiesta che fa dice Signore benedicimi e lui non voleva soltanto una normale benedizione ah Signore benedicimi sai quando uno magari non ha cosa a dire nella preghiera Signore benedicimi benedicimi la mia vita ma che tipo di benedizione stai pensando quando diciamo questa parola quando facciamo questa richiesta al Signore che cosa ha in mente sicuramente Yabetz non aveva una cosa piccola no ossia lui aveva un qualcosa di grande la benedizione di Dio questa parola in ebraico mi piace molto Barak questo Barak benedire favorire ossia tu invoca il Signore il Signore stesso dà il suo favore per la tua vita e chi meglio di Dio può benedire il nostro cuore chi meglio del Signore ci può mettere una roccia salda su cui noi possiamo camminare e poggiare i nostri piedi la nostra vita il nostro futuro soprattutto quando ci sono tante incertezze allora benedire il Signore vuol dire che anche io sto aspettando che la benedizione venne dal cielo non so quanti di voi osservate gli uccellini però una cosa che facevo sempre da bambino mi piacevano sempre gli uccellini e una bella cosa che si può notare quando ci sono i cuccioli nel nido e arriva il padre la madre che cosa fanno gli uccellini la prima cosa alzano la testa la testolina con il becco ancora giallo perché sono cuccioli aprono il becco perché stanno aspettando che cada qualcosa da sopra perché il padre e la madre possono portare questo cibo questo nutrimento e sapete che cosa dice la parola di Dio Salmo 81 versetto 10 io sono il Signore il tuo Dio che ti fece risalire dal paese d'Egitto apri la tua bocca e io la riempirò apri la tua bocca Signore benedicimi ho bisogno di te perché senza di te non posso sopravvivere io non ti posso fare nulla non posso cambiare la mia esistenza ma io invoco il tuo nome e so che il Dio di Israele può cambiare il mio cuore e io confido in te forse c'è un problema nella tua mente forse sei una persona che quando incomincia una cosa non finisce mai forse sei una persona che non sai parlare con il prossimo e non sai come muovere o non hai speranza per il futuro o c'è il passato che è ancora incatenato ai tuoi piedi al tuo cuore Signore io ti invoco benedici la mia vita e benedizione ha un sinonimo di liberazione io devo invocare il nome del Signore forse per qualcuno è un problema di salute io non lo so ma io so che una cosa che noi possiamo invocare il nome del nostro Signore nel nome di Gesù e vedi una cosa più apri la bocca più benedizione potrai ricevere quindi apri la tua bocca prega al Signore la parola di Dio dice nel Salmo 35 versetto 27 cantino e si rallegrano quelli che si compiacino della mia giustizia e possono sempre dire glorificato sia il Signore che vuole la pace del suo servo Dio vuole il bene per te il nostro bene magari dobbiamo attraversare delle tempeste delle burrasche ma il Signore ha un proposito quindi numero uno lui ha pregato per benedizione numero due lui dice Signore allarga i miei confini Signore questa casa è troppo piccola voglio una casa una villa magari qualcuno sta pensando nei miei confini con la piscina idromassaggio jacuzzi io voglio tutto di più e di meglio no televisore 4K non serve più voglio la tecnologia più moderna che c'è ma era questo quello che stava chiedendo lui questo quando dice allarga i miei confini allora noi sappiamo che lui era grato a Dio per quello che lui già aveva ma lui voleva qualcosa di ancora più grande e io intendo qua cari che lui voleva più autorità che lui voleva più responsabilità lui voleva più opportunità lui voleva una vita più santificata perché lui rispetto ai suoi fratelli aveva una posizione di distacco e sicuramente non era il denaro anche se io credo che il Signore lo ha benedetto anche materialmente parlando però la benedizione era nel suo spirito perché quando sei ricco spiritualmente tutto il resto cambia nella tua vita quando cerchi il Signore quando la tua vita non è basata perché Dio non è incoerente non è che lui dice adesso ti do quello che vuoi a livello materiale e dopo mi cerchi no il Signore trasforma il nostro ego il Signore ci fa persone che dipendono da Lui timore del Signore il principio della sapienza come noi abbiamo letto però qualcuno direbbe ma ecco hai sbagliato un figlio di Dio che voglia essere grande allora Geremia ci risponde questa domanda in Geremia 45 versetto 5 il Signore dice per mezzo del profeta tu cercheresti grande cose per te è una domanda il Signore dice non li cercare tu vuoi una cosa solo per te non li cercare dice il Signore poiché ecco io farò venire del male sopra ogni carne dice il Signore ma ti darò la vita come bottino tutti i luoghi dove tu andrai io voglio vita dal Signore Signore allarghi i miei confini a volte noi non vediamo credenti che dicono Signore allarghi i miei confini perché io possa parlare a più persone dell'amore di Dio allarghi i miei confini perché io sia una luce in mezzo a questo mondo di tenebre allarghi i miei confini perché io sia ripieno dello Spirito Santo e quando prego per una persona quella persona possa ricevere la grazia di Dio conoscendo la parola ascoltando la parola e se c'è anche un problema fisico perché no anche ricevere la manifestazione del Reino di Dio fisicamente e spiritualmente perché noi siamo sempre molto preoccupati a quello che accade su questo mondo Signore allarghi i miei confini io voglio la Tua benedizione ma allarghi i miei confini allarga la mia mente allarga il mio cervello allarga il mio rapporto con Te perché questo è il segreto ci sono persone cari che più potere vogliono a livello umano più servitore vogliono per loro guarda come è diverso dalla metodologia del nostro Signore invece per essere grande grande questa è la maniera pagana invece per essere grande nel Regno di Dio bisogna essere servo di tanti e allora tu diventerai grande per il Signore e questo è un prezzo da pagare quando noi diciamo Signore allarghi i miei confini stai dicendo Signore io voglio servire il mio prossimo io voglio amare Dio al di sopra di tutte le cose io voglio amare il mio prossimo come me stesso perché se è così Rimini sarà diversa Ravenna sarà diversa Cesena sarà diversa l'Italia sarà diversa a volte vedo alcune nazioni dove si dice che c'è tanto tanto Vangelo che purtroppo non è il caso dell'Italia ma in altre nazioni che se in Sud America in Africa in Nord America ma io dico ma quale sapore il sale e la luce dei credenti sta producendo nella società noi veramente stiamo allargando i nostri confini spirituali per la gloria del Signore è qualcosa che noi dobbiamo rispondere quindi Dio non giudica l'uomo di quanti servi ha ma di quanto l'uomo lui serve noi vogliamo servire il Signore e questa è la cosa eccezionale ossia che il Signore vuole che noi possiamo avere una vita santificata Paolo era apostolo Paolo aveva fatto miracoli nel nome del Signore Paolo la sua vita stessa era un miracolo no lapidato non era morto naufrago non era morto morso da un serpente non era morto quindi era un miracolo camminante eppure lui che cosa dice lui dice così corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù Filippese 3 14 poi lui dice non sapete che coloro i quali corro nello stadio corrono tutti ma uno solo tiene il premio corretti in modo da riportarlo 1 Corinthians 9 24 Paolo correva io voglio avere la medaglia io voglio largare i miei confini c'è gente che non vuole crescere spiritualmente che è mediocre la sua vita è solo Signore dammi 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 per questo mondo ma il Signore sta dicendo che io voglio benedire voglio che il mio regno si manifesti nella tua vita ora e sempre nel nome del Signore e quando noi abbiamo questa prospettiva divina la Chiesa cambia la tua famiglia cambia e dico anche questo la mia esortazione lo dico per la mia famiglia e per la tua famiglia che le nostre famiglie possono pregare insieme anche perché ci ascolta da casa le cose non stanno bene in casa prega che il Signore allarga i suoi confini dentro di casa tua per i tuoi figli per la moglie per il marito il marito ancora non è credente il Signore allarga i tuoi confini dentro di casa mia perché noi vogliamo essere una famiglia solida nel nome del Signore se tuo figlio non ti sta ascoltando prega al Signore nel nome di Gesù dobbiamo essere concordi pregando che i confini che il Signore ha ossia questa santa ambizione che il Signore dà alla nostra vita allora c'è Adrian Rogers predicatore battista dagli Stati Uniti lui dice Dio ti ha dato l'abilità ma Dio vuole che tu prenda quelle abilità e Dio vuole che tu investa quelle abilità per Lui quindi man mano il Signore ti allarga i tuoi confini usa tutto per la gloria di Dio quando incominci a usare per te chiedete non ricevete perché chiedete male per spendere i vostri propri piacere lo dice anche Giacomo allora il Signore è pronto a dare la benedizione il Signore è pronto ad aprire i confini ma io devo dipendere dal Signore amén la numero tre e quattro io sono quattro richieste ma la tre e la quattro le ho messe insieme perché se guardate nel versetto di numero dieci lui dice sia la tua mano con me e poi preservami dal male naturalmente se io voglio che la mano di Dio stia con me e preservare dal male sono due cose ma che camminano insieme almeno la mia umile interpretazione preservami dal male in modo che io non debba soffrire e questa è una richiesta che noi ce l'abbiamo tutti i giorni vero? amén io ce l'ho signore io non voglio soffrire tu vedi persone in sofferenza signore io non voglio quella sofferenza per me vedi una persona che attraversa un problema in casa un problema di salute un problema economico signore liberami da questo male nel nome di Gesù chi è che non ha questa richiesta chi non fa questa richiesta è perché l'ha fatto ma non lo vuole dire o non lo so è un bugiardo però noi siamo deboli e noi vogliamo la benedizione di Dio vogliamo che i confini di Dio si allarghino nella nostra vita e vogliamo che la mano di Dio stia con noi però vogliamo notare ossia questa protezione che lui chiede al signore proteggimi dal male ossia perché io non sia rattristato allora vediamo quanto era notevole questo uomo perché caro quanto più allarghino i tuoi confini per il signore quanta più benedizione tu hai di Dio in te tu stai certo di una cosa il nemico verrà contro di te come un leone il nemico prenderà il suo mitra per cercare di abbattere la tua vita spirituale perché lui non combatte contro coloro che dormono lui combatte contro coloro che sono come i abets che pregano al signore che vogliono fare la volontà di Dio che vogliono usare i doni e i talenti per la gloria del nostro signore e lui sapeva che nel mondo c'era già il peccato come noi sappiamo che c'è il diavolo e lui sapeva che aveva bisogno di confidare nel signore e allora come già te l'ho detto ossia quando Dio aprirà le finestre del cielo noi sappiamo che il nemico sarà sempre pronto a combattere contro di noi allora che cosa dobbiamo fare signore benedice la mia vita signore allarghi i miei confini e come dice qua nel versetto di numero 10 l'ultima parte che stiamo vedendo signore preservami dal male sai che cosa mi ricorda quando dice preservami dal male questo versetto che sto per leggere a voi che voi sapete a memoria dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimesso i nostri debitori e non ci esporre la tentazione ma liberaci dal malino è la preghiera del signore gli abetz sta pregando signore liberami dal male che vuole distruggere la mia vita il male che vuole distruggere la mia fede il male che vuole togliere la mia costanza magari quando dice ma io sono costante nel cammino del signore nella via di dio io voglio essere costante signore togli questo male e lui dice preservami da ogni modo in modo che io non debba soffrire il credente nel mondo passa per delle tribolazioni ma nessuno dice signore io voglio soffrire neanche Gesù passa oltre di me questo calice ma che sia fatta la tua volontà e non la mia e anche se noi dobbiamo attraversare il male tu stai tranquillo che la benedizione del signore sarà con te che la protezione di dio sarà con te ma non è sbagliato dire signore togli da mezzo ossia la mia vita di mezzo a questa confusione a questo male a questo dolore che c'è nel mondo a questa confusione preserva la mia vita preservami dal male e fai in modo che io non devo soffrire amén io voglio che tu possa tornare a casa carico nel nome di Gesù per mezzo della sua parola allora se dal signore vuoi essere onorato prega con fede perché rispetto agli altri tu sarai maggiorato amén quindi questa è la prosperità del credente amén e noi sappiamo che tutto il resto cercando Dio al primo posto lui ci darà tutte le altre cose di cui noi abbiamo bisogno Iabetz che cosa ha fatto per noi questa mattina mi ha dato un esempio da seguire per la preghiera se la tua preghiera è morta nella tua vita oggi è il momento di incominciare a combattere di essere un guerriero della preghiera di adorare il signore di pregare con fede per le cose più difficili che tu umanamente possa reputare che esistono nel tuo cuore nella tua famiglia nella vita della tua chiesa nel mondo nella città dove vivi non importa per il signore nulla è impossibile comincia a dire il signore benedice a me il signore cambia allarga i miei confini preserva la mia vita liberami signore dal male perché cari se noi non facciamo così il nostro camminare sarà un camminare sciocco tu oggi hai la possibilità di essere vincente o perdente una persona che getta la spugna e una persona che prende la medaglia tu che cosa vuoi essere? che tipo di persona vuoi essere? noi vogliamo ossia ci sono due ragioni per cui molte persone non riescono ad avere l'aiuto di Dio o semplicemente trascurano di chiedere se non chiedono a Dio quindi le cose non accadono non perché Dio non vuole ma Dio vuole vedere la fedeltà non mia nei suoi confronti e se io non prego le cose non accadono oppure non riusciamo a vivere in maniera obbediente al signore io prego pure io direi signore benedice la mia vita ma dopo io non vivo per la gloria di Dio vivo per la mia gloria un signore con una richiesta di preghiera di questo genere lui non risponde è una cosa molto personale tu stai pregando al signore oppure stai pregando ma non sei obbediente al signore è una cosa che tu devi decidere questa mattina devi analizzare la tua vita abbassa la tua testa chiudi i tuoi occhi vogliamo pregare al signore perché il signore è un qualcosa di grande riservato per la nostra vita lui vuole liberarci dal male è un qualcosa di grande e se magari tu non hai più voglia se magari sei stanco il signore questa mattina sta dicendo io ho un proposito per la tua vita voglio che tu cresca in mezzo a questa pandemia questo caos che tu possa confidare in me perché io voglio allargare i tuoi confini voglio ti dare benedizione voglio preservare la tua vita voglio liberarti dal male nel nome del signore Gesù amè nel nome di Gesù allora se tu vuoi facciamo la preghiera di Abetz la nostra preghiera questa mattina vogliamo dire se lo vuoi dire dopo di me benedicimi siete molto timidi più forti benedicimi benedicimi ti prego allargami i miei confini sia la tua mano con me sia la tua mano con me e preservami dal male e preservami dal male in modo che io in modo che io non debba soffrire signore ti ringrazio perché tu hai concesso questa preghiera hai concesso una risposta a quello che Abetz aveva chiesto e nel nome di Gesù signore io chiedo che la tua grazia e misericordia siano abbondanti nella vita di tutti i presenti qui le persone che ci seguono perché la tua grazia signore la tu possa concedere le cose di cui noi stiamo pregando al signore per la tua gloria e che noi possiamo essere uno strumento per te nel nome del nostro signore Gesù che ogni catena con questo mondo signore sia spezzato e la nostra vita sia consacrata a te per la tua gloria oggi e sempre nel nome di Gesù Amen e il popolo di Dio dice Amen solo per concludere dopo la preghiera c'è un uomo grande missionario missionario già dell'era moderna e lui dice così William Carey il fondatore delle missioni moderne che è stato missionario in India lui dice oh Dio Dio aiutami essere l'uomo che tu vuoi che io sia allora che noi possiamo da oggi se magari stiamo un po' zoppicando non deve zoppicare più il Signore non deve più essere mister o la miss Dolores il Signore è un proposito per te noi dobbiamo confidare nel nome di Gesù il Signore cancella il tuo passato e scrivi un nuovo futuro insieme a Cristo dobbiamo ascoltare la sua voce e essere obbediente a Lui Amen che il Signore ci benedica grandemente nel nome di Gesù dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino Alba Nuova su Facebook e YouTube con Fabiano viene a pregare il Signore mercoledì alle ore 20 preghiamo insieme al Signore su YouTube con Fabiano giovedì alle ore 20 e 30 nuovo radio su Zoom preghiamo insieme al Signore partecipa alle attività della tua chiesa inoltre noi continueremo i nostri culti presenziali ogni domenica a Cesena e a Rimini alle ore 10 sostieni con amore e generosità l'opera della chiesa di a ciascuno come ha deliberato in cuor suo non di mala voglia né per forza perché Dio ama un donatore gioioso usa Liban e sostieni la tua chiesa per la gloria del Signore per l'avanzamento del Regno di Dio ognuno con la generosità che il Signore ha messo nel nostro cuore nel nome di Gesù di Gesù a di a Grazie a tutti. Grazie a tutti.